Salve a tutti, oggi parleremo del SAL, il servizio accompagnamento al lavoro, uno dei tanti progetti finanziati dal POR FSE. Il POR FSE è il programma partito regionale per i fondi strutturali europei. Pensiamo che questo progetto possa portare a degli ottimi risultati e che tutte le persone che hanno bisogno possono soffrire di esso. Siamo organizzati con la responsabile per parlare in modo più approfondito del progetto. Il servizio di accompagnamento al lavoro è il servizio dei comuni della zona sociale numero due. Le persone devono essere segnalate dai servizi sociali, sociosanitari o dai servizi sociali del Ministero della Giustizia. Questo servizio lavora attraverso dei mediatori, operatori, esperti nell'inserimento al lavoro. Oltre ad approfondire in modo più accurato il progetto, ci siamo fatti anche dire da responsabile quali sono i requisiti per usufruire di questi servizi. È un servizio rivolto a un target della popolazione specifico, quello tra virgolette più fragile. Possono essere persone con disabilità grave, persone in corso di tossicodipendenza oppure che sono usciti dal carcere o semplicemente persone povere.